Un quartiere difficile ma non per questo privo di senso civico, un nuovo modello di polizia municipale radicato nella comunità e una stretta collaborazione fra scuole e associazioni. Sono questi gli elementi principali del progetto Quartiere Vivo presentato stamattina a Villaniscemi a Palermo. L'idea è quella di potenziare il concetto di legalità negli abitanti del quartiere Zen sviluppando i concetti di sicurezza partecipata e cittadinanza attiva, promuovendo un nuovo rapporto fra residenti e operatori del corpo di Polizia Municipale. Il progetto nasce innanzitutto dall'avere partecipato ad un bando il quale prevedeva appunto la pregiottalità di ipotesi di aspetti di legalità legati al territorio. In definitiva si tratta di creare delle buone pratiche di legalità. Si parte dal quartiere San Filippo Neri, quartiere Zen, non perché si voglia etichettare qualcosa di illegale, è stato scelto quel territorio perché le realtà locali, che sono la scuola, abbiamo visto che c'è stato uno scambio pre-pregettuale di accoglimento da parte della popolazione locale, dei residenti a questo tipo di progetto. Il progetto si svolgerà nel corso del 2014 e del 2015 e permetterà ai cittadini di individuare con più facilità problemi e soluzioni, alla pulizia di comunità di stabilire un maggiore controllo sul territorio. Un nuovo modello di pulizia comunale che si affianca ad un nuovo modello di scuola, un nuovo modello di società civile. Il senso di fondo è che i quartieri della nostra città non possono essere luoghi di emarginazione e di isolamento, devono essere luoghi vivi. A questo punto di vista l'impegno delle scuole dello Zen, così come del Fondo Ambiente Italiano, così come l'impegno della pulizia municipale, è il segno che stiamo costruendo una comunità. È ora di finirla, di parlare di Palermo, bisogna costruire la comunità dei palermitani.